Posti esauriti tutte le sere al dormitorio della Pia Casa a Lucca, aperto dal Comune per ospitare i senza tetto nel periodo più rigido dell'anno. Responsabile della struttura è Cesare Pardini della Protezione Civile. A gestire il dormitorio, oltre alle associazioni della Protezione Civile, ci sono anche la Caritas, la comunità di Sant'Egidio e il gruppo volontari assistenza immigrati. Quanti posti ci sono? Qui i posti letto, le brandine, ne abbiamo montate 20 e sono tutte occupate. Però non è detto se ne vengono due persone in più che le mangiamo via, le facciamo dormire con delle coperte per terra perché non possiamo montare più altre brandine. Se vedete il posto è occupato, tutti i posti sono occupati. O leviamo tutte le sedie del salone, ma allora diventa qualcosa di complesso e non riusciamo più a gestirlo. Chi viene qui, italiani, stranieri? Allora, qui vengono persone estracomunitari, marocchini, albanesi, scrilanchesi. C'è anche qualche italiano. C'è anche qualche italiano che vive così, fuori sotto le stelle, quando non è aperto il corso. Problemi di convivenza ce ne sono? No, diciamo che problemi di convivenza ci sono fino al punto tale del disagio sociale che ognuno di loro ha, chiaramente un po' di problemi, però sono gestibili. Tra gli ospiti italiani del dormitorio c'è anche Alessandro, 44 anni, di Capannori, un passato da tossicodipendente. Vieni qui a dormire tutte le sere al dormitorio? Sì, ora sì, in questo momento sì, perché non ho casa, non ho niente. E se non vieni qui al dormitorio dove puoi andare a dormire? Fino a sei mesi fa dormivo alla stazione, su una panchina, col saccappelo. Dormire però ora alla stazione col saccappelo è impossibile? No, ne ho provato ieri sera ma è stata una cosa incredibile, cioè è troppo freddo. Siamo due o tre persone che si dormiva lì ma non ce la facciamo.